Il frutto perduto per proporre una nuova agricoltura competitiva nel rispetto di ciò che è la cultura alimentare di un bacino importante quale quello mediterraneo. E' quello che sta facendo Francesco Cordopatri dell'azienda agricola Cordopatri che ha riscoperto e sta rivalorizzando un frutto antichissimo e quasi perduto la zucchina centenaria che è questa che noi inquadriamo in questo momento e che è un particolare tipo di zucchina perché è priva di spine perché poi ci sono le altre sempre della stessa tipologia che hanno le spine. Il dottor Francesco Cordopatri ha voluto puntare sulla riscoperta di un prodotto nuovo. Perché? Buongiorno, allora io innanzitutto ritengo che sia un prodotto fortemente legato al territorio quindi abbia già un valore intrinseco e presente alle nostre latitudini da svariati secoli si pensa che sia stato portato dagli spagnoli e da quell'epoca presumibilmente è stato tramandato di orto in orto. Quindi non era di origine europea il frutto? No, veniva dall'altro lato del mondo, è stato importato a seguito della scoperta dell'America dopodiché si è stato diffuso sempre a mezzo degli spagnoli alle nostre latitudini in un areale che va dalla Spagna e anche alla Grecia passando ovviamente per lo stivale italiano al che chiaramente la coltivazione degli areali di origine ha preso una via qui invece si è congelata probabilmente una via genetica tutta sua, tutta italiana. Questo stiamo indagando da circa due anni e due anni che abbiamo attivato questo studio proprio per valorizzare questa essenza e due anni che selezioniamo sementi ed è il secondo anno di impianto nel quale miriamo ad unire la forte tradizione e il forte legame del territorio di questo ortaggio al now-how di assoluta eccellenza tipicamente italiano relativamente sempre all'agricoltura e alle sue funzionalità. Il microclima del Mediterraneo si rivela ancora una volta eccezionale per consentire questo tipo di coltivazioni di frutti che provengono addirittura da un altro emisfero? Sì, presumibilmente la pressione selettiva ha fatto sì che l'ortaggio si sia voluto nella sua parte più robusta e più resistente a queste latitudini per cui quello che ci ritroviamo oggi in questa collezione è ciò che l'evoluzione ha reso possibile, ha fatto persistere per cui abbiamo un ortaggio molto rustico che potenzialmente potrebbe facilmente dare una coltivazione a basso impatto ambientale quindi con un utilizzo blando di agrofarmaci e che possa quindi migliorare sotto il profilo della sostenibilità e di un'alternativa alle nostre colture nel nostro areale. Ecco, ma quali sono le caratteristiche di questo frutto? Come si può mangiare? Come si può conservare? Come può essere commercializzato? Allora, questo frutto come ci insegnano i nostri nonni è molto piacevole al gusto che è la prima cosa per un prodotto agroalimentare mentre la moderna scienza ci insegna che è un frutto alquanto interessante sotto il profilo delle caratteristiche nutraceutiche in quanto è un frutto molto ricco di fosforo, di calcio, di antiossidanti ed ha sia proprietà diuretiche che antiinfiammatorie quindi è idoneo sia alle diete di piacere sia a diete specifiche, quali quelle mediche o quali quelle di anziani o di bambini è un frutto dunque molto versatile e molto interessante per queste peculiarità. Ecco, rispetto alle zucchine tradizionali come può essere utilizzato in cucina? Allora, rispetto alle zucchine tradizionali, convenzionali la prima differenza che balza all'occhio è il fatto che possa essere consumato anche crudo per cui potenzialmente si può staccare dalla pianta e si può mordere come una mela questo tipo di frutto tant'è che viene utilizzato spesso in insalate abbinato ad altri tipi di ortaggi e può sostituire altri ortaggi come il finocchio come il cetriolo in quanto di sapore e ricorda vagamente questi ortaggi più chiaramente delle note particolari che sono proprio solo di questa essenza. Un tempo questo tipo di zucchine venivano messe a dimora vicino agli alberi di agrumie e spontaneamente si arrampicavano e quindi si vedevano piante di agrumi dai cui rami pendevano le zucchine. In realtà adesso con una coltivazione a spalliera si è creato un impianto moderno. Sì, sostanzialmente era una coltivazione che avveniva esclusivamente a livello amatoriale infatti la ritrovavamo negli orti dei nonni negli orti dei parenti e sulle staccionate che magari cresceva allo stato spontaneo questo invece per questo tipo di coltivazione abbiamo applicato l'esperienza della frutticoltura italiana e della frutticoltura della piana che è già molto più avanti rispetto ad alcune sue coltivazioni omologhe tant'è che sostanzialmente coltiviamo questa zucchina su un impianto di kiwi però modificato per far fronte alle esigenze della pianta per farla lavorare al meglio per esempio abbiamo creato un tipo di rete per permettere di arrampicarsi agevolmente per far sì che i frutti quando pendono non rompano le branchette a frutto. Questa coltivazione richiede particolari cure l'irrigazione, altri trattamenti o è una coltivazione diciamo semplice senza grandi necessità di intervento? Ma come tutte le coltivazioni attuate a livello professionale non è mai semplice richiede oculatezza richiede l'essere costantemente in campo richiede investimenti perché un frutteto del genere a costi equiparabili ha il migliore impianto di kiwi sul mercato e soprattutto richiede criterio nella sua gestione chiaramente noi siamo ancora alla fase sperimentale per cui stiamo capendo le sue esigenze in termini sia nutrizionali che in termini di esigenze idriche. Ecco, nelle mani di uno chef questa zucchina cosa potrebbe far derivare? Credo che questa zucchina sia l'equivalente del pane perché è molto versatile è sostanzialmente un pane vegetale proprio perché può essere accompagnato da molti alimenti che ne completano e ne migliorano il gusto e lei a sua volta migliora e completa alcuni piatti ma può essere valorizzata anche singolarmente con una miriade di ricette che sono sia quelle della tradizione che sia quelle un pochettino più più evolute più moderne che vedono essa in ricette studiate del genere zucchine gratinate zucchine fritte in particolari modi perché la dolcezza Quindi la classica parmigiana calabrese si potrebbe fare con queste zucchine? Non solo esce anche un piatto veramente eccellente Al momento questa coltivazione come può essere definita? Sperimentale? Pionieristica? O è l'embrione di un circuito più ampio? Allo stato attuale forse il termine che più si confà è il pionierismo perché comunque viene trasferita dall'orto quindi da una coltivazione amatoriale ad una coltivazione professionale ci rendiamo conto che cambia un po' tutto non abbiamo grandi esperienze in Italia riguardo alla coltivazione per cui dobbiamo rifarci a quelle poche notizie pervenute dagli areali di origine che peraltro non sono facilmente trasferibili perché cambia tutto dalle nostre latitudini alle reali alle caratteristiche pedoclimatiche per cui dobbiamo cercare di fare necessità e virtù e ottimizzare le poche notizie che abbiamo e arrivare dove non abbiamo informazioni con la nostra esperienza di agricoltura di assoluta eccellenza italiana Inutile dire e chiudiamo che si tratta di coltivazioni assolutamente biologiche in quanto l'azienda Cordopatri è certificata proprio per l'elevatissima cura e l'attenzione verso la produzione biologica Grazie a tutti